questa storia di 600 euro un teatro non male che su tutti i siti informativi era stato detto non va a calcare c'è tempo non c'è capito tu mila domande dopo poche euro più del 50% assurdo perché noi di assurdo da piccolini quando doveva mandare dal medico la prima cosa che ti diceva la nonna che ora eravamo mire è otto e tu per sette manco un quarto stella ma io prima su facebook ho letto un commento scusate io mia moglie e i figli si mi ching c'erano 600 euro per ogni non ti risposta una signora e se è così stanotte facendo i figli si ha scritto scusate ma questi 600 euro ci fanno bonifico ci portano a casa immaginate chi è? io ho conto la domanda con te chi? il presidente no signor non sono quello che io presidente per chi che i 600 euro già non l'hai risposto a me questa confusione mia nonna mia compilata da quant'anni come imprenditore agricolo stano ma quale imprenditore agricolo non sei a rapi mani a boate così c'è questa nonna quant'anni parmini c'è un mullignano che significa come un gusso agricolo che significa come un gusso agricolo come un gusso agricolo guardare il paradigmino